Credo di essere stato uno dei primi a vedere i tedeschi. C'era stato all'armistizio, forse era l'8 o il 9 settembre e io mi trovavo sul ponte di Rimini. Ho visto passare i tedeschi con vari mezzi e armamenti. Sono passati davanti alla caserma italiana ma non ho visto nessuno dei nostri venire fuori di lì. Alla Tod ho lavorato nella zona tra il padiglione e Montecchio. Facevamo le buche per i fortini. Erano larghe 4 metri per 4 e profonde circa 3 metri e mezzo. Venivano ricoperte con tronchi di legno e sopra veniva riportato uno strato di terra. Le buche dovevano essere collegate con camminamenti lunghi circa 20-30 metri ma non si è fatto in tempo a farli. Il controllo del nostro lavoro funzionava in questo modo. C'era un sorvegliante fisso e poi c'erano i controlli dei superiori ogni tanto. Ricordo che il sorvegliante era dei nostri posti di Osteria nuova. Era una specie di caporale e infatti noi lo chiamavamo così. Ogni tanto ci faceva riposare e noi ci sedevamo nella buca. Ci assicurava che lui stava di guardia e che ci avrebbe preavvertito nel caso che stesse arrivando l'ispezione. Infatti tutti i giorni passavano due o tre tedeschi per controllare i lavori. Alla Tod ho lavorato solo per una ventina di giorni perché una notte è venuto un camion vicino a casa nostra e ha scaricato vari materiali che dovevano servire per fare una postazione. Dentro ci doveva andare un cannone a lunga citata. Il comandante che veniva dal comando situato nella casa di Maffei Giovanni al padiglione mi ha incaricato di fare da custode del materiale. Così mi ha dispensato dal lavoro alla Tod. E poi ricordo due fatti. Uno riguarda i tedeschi, l'altro i fascisti. Comincio con il fatto che mi è rimasto più impresso. Alcuni ragazzi del Trebbio erano venuti a caccia delle allodole nei campi al di sotto della provinciale tra le carrate e l'incrocio della via Pozze. Uno era Talevi Giacomo, gli altri non ricordo chi fossero. Dalle carrate sono arrivati due tedeschi in motocicletta e gli hanno urlato l'alt mentre li inseguivano. Giacomino ha raggiunto il fosso ed è venuto su verso casa mia riparato dalle Tamerici. Io avevo visto tutto, sapevo che sarebbe rimasto intrappolato perché sul ciglio della strada in cima al fosso c'era una rete con un cancelletto. Allora mi sono affrettato ad aprirlo. Giacomino era sfinito però è riuscito ad attraversare la strada e a scappare correndo lungo il fosso dall'altra parte della provinciale. E poi l'episodio dei fascisti. Un ragazzo di Tavulia si era dato disertore e si nascondeva presso qualche casa dispersa, lontano dai paesi. Andava spesso nella casa della famiglia Gamboni e quella casa isolata che è in fondo all'attuale via Tamerici nel comune di Tavulia. Ogni tanto passava per i campi e attraversava la strada per andare a passare qualche ora nella casa di Mancini e Eugenio. Anche quella era una casa isolata. Un giorno io mi trovavo sulla strada con alcuni compagni. È passata una macchina che si è fermata poco più avanti e ha scaricato tre militi fascisti. Si sono incamminati verso Tavulia esercitandosi con il lancio di alcune bombe a mano nei campi. Poco dopo la macchina è tornata indietro a riprenderli. In quel momento il fuggitivo stava attraversando la strada all'altezza della casa di Benzi per tornare alla casa dei Gamboni. Lo hanno visto e lo hanno chiamato. Il ragazzo si è fermato e probabilmente per paura che gli sparassero è andato da loro ma poi è stato caricato sulla macchina che si è diretta verso i Maroni. Alcuni giorni dopo hanno detto che a Tavulia sono stati fucilati cinque ragazzi. Ho sentito dire che tra loro c'era anche quello che era stato preso vicino a Benzi. E poi c'è stato il bombardamento su croce. Prima del passaggio del fronte gli aerei hanno bombardato su croce vicino a casa nostra. Per fortuna ero già sfollato perché la casa si era divisa in due rimanendo lesionata in modo grave. Probabilmente miravano a colpire la postazione tedesca che c'era all'inizio di via Pozze sulla sinistra. Una grossa bomba è caduta sulla destra centrando il monticello che c'era una volta e lo ha trasformato in una grande buca. Quando poi il terreno è stato spianato il monticello è calato di circa due metri. Durante il passaggio del fronte io ero sfollato sotto Monte Ciccardo nel fosso dell'Arzilla in un posto detto Cairo. Mio padre è rimasto a guardare la casa. Alle Pozze almeno uno per ogni famiglia è rimasto a guardare la casa. Ricordo che avevamo portato con noi il maiale e lo avevamo nascosto nella macchia. Certamente i tedeschi ci avevano tenuti d'occhio quando andavamo con il secchio a portargli da mangiare. Infatti l'ultimo giorno sono andati a prenderlo e nonostante le nostre proteste lo hanno caricato in un camion. Il giorno prima dell'arrivo degli inglesi sono venuti dei soldati tedeschi che ci hanno fatto uscire dalla capanna. Poi durante la notte sono andati via. Poi alla mattina sono spuntati i primi inglesi con il fucile spianato e ci hanno chiesto tedeschi? Noi abbiamo risposto no tedeschi. Allora si sono messi a fare il tè. Poi sono avanzati lungo il fosso verso Monte Ciccardo per conquistare il paese. Però un tedesco era rimasto appostato sul campanile e quando li ha visti allo scoperto li ha mitragliati. Noi abbiamo visto ritornare indietro alcuni feriti che sono stati caricati sulla croce rossa militare. Più tardi c'è stato un grande bombardamento degli inglesi con cannoni e aerei sul paese. Il campanile e la chiesa sono stati distrutti. Alla fine sono stati raccolti una quindicina di morti inglesi. Un tedesco l'avevano messo da parte. Dopo questo fatto sono arrivati i cannoni inglesi a lunga gittata piazzati vicino a noi. Ce n'erano molti tutti in fila. Io aiutavo a trasportare le casse dei proiettili. I soldati mi chiedevano dove avevo la casa. Io rispondevo che era vicino a Montecchio. Loro facevano un gesto così come se fossero dispiaciuti e dicevano noi. Pum. A presto.